Dopo Mortara anche Garlansko va all'isola Piedonale nel fine settimana. Il provvedimento non è una novità assoluta, si tratta infatti di replicare quanto già attuato la scorsa estate e negli anni passati in occasione di particolari eventi, ma la piccola grande rivoluzione sta nella durata. L'iniziativa riguarda il tratto di corso Cavoura dal semaforo all'incrocio con Via Roma a Piazza Repubblica. Lo scorso anno era stato chiuso al traffico a sabato sera, adesso invece si è deciso di estendere l'iniziativa. Il corso chiuderà dalle 17 del venerdì fino alla domenica sera, per ora alle 22, poi modificabile a seconda delle decisioni che verranno prese sul coprifuoco a livello nazionale. L'annuncio è stato dato con un comunicato dal vice sindaco Giuliana Braseschi. Ci sarà quindi posto, almeno nei weekend, per posizionare i tavolini di bar e ristoranti attualmente sacrificati con parziale invasione della pista ciclabile. Durante la settimana il corso rimarrà completamente percorribile alle auto per cambiare configurazione, come detto, solo dal tardo pomeriggio del venerdì. Non è però finita qui perché la vice sindaco, rispondendo anche ad alcune sollecitazioni provenienti da Garlasco Civica, ha rilanciato, proponendo un dibattito sulla completa pedonanizzazione del tratto di corso Cavour in questione, che diventerà giocoforza a un tema di confronto in vista della campagna elettorale. Sarà compito delle liste che si presenteranno alle imminenti elezioni presentare proposte e progetti da discutere con la popolazione, scrive la vice sindaco Braseschi, prevedendo degli studi per il conseguente rinnovo della viabilità e dell'arredo urbano di un'area che costituisce il cuore della città di Garlasco.